Nelle prossime settimane il Partito Democratico tenterà di ricompattare i gruppi che a volte si guardano male tra loro perché ci sono i signorotti che pensano di poter governare le realtà locali a loro piacimento. In Puglia e nel Partito Democratico si parla anche di questo nell'analisi post-voto fatta dal segretario regionale Marco Lacarra. Anche se il bilancio del centro-sinistra Conti alla Mano risulta positivo, amministrava dieci grandi comuni prima della tornata elettorale e altrettanti ne amministra ora, con coalizioni che rispecchiano lo schema regionale. Per quanto riguarda i piccoli centri, il saldo è sempre positivo, anzi, da 16 ora ne sono 20. Appendice a parte merita il caso Brindisi, Lacarra ha commentato la sconfitta del candidato del centro-sinistra sulla base di una scelta precisa, di discontinuità rispetto al recente passato, ed è chiaro che non paghi da subito e fuori dalla realtà. Secondo Lacarra, chi dice che il Movimento 5 Stelle abbia preso piede in Puglia sono riusciti a vincere due balottaggi su 258 comuni. Riescono a prevalere quando propongono un candidato spendibile. E sulle alleanze con sinistra italiana si vuole continuare a dialogare, mentre a destra non è pensabile andare oltre il confine con l'Udc. Uno schema che può funzionare, poiché se non si aggrega si rischia di consegnare il Paese all'antipolitica. Ma il duro atto di accusa arriva da Blasi, secondo il quale è stato un errore aver imposto l'attività del partito come semplice aggregatore di voti. Un metodo dove al consenso dei cittadini si è preferito, come nel caso della nomina dell'esecutivo regionale, l'accordo con i capi bastone. Il PD ha vinto nei comuni Vedi Gallipoli, dove si sono presentati candidati in grado di suscitare l'entusiasmo e le speranze dei giovani.